Non c'è pace per Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie. Se la ragazza sembra aver letteralmente perso la testa per il nuotatore, quest'ultimo sembra voler assolutamente fare dei passi indietro nei confronti della principessa. Proprio ieri sera, durante la diretta con Alfonso Signorini, lo sportivo ha annunciato che la notte avrebbe diviso il letto con Aldo Montano. Il campione di scherma, infatti, è ritornato dal gruppo, dopo qualche giorno lontano dalla casa e l'apposito periodo di quarantena. Questa situazione aveva fatto andare su tutte le furie Lulu già qualche giorno fa, quando Manuel le aveva rivolto la stessa comunicazione, in quanto non accettava che il desiderio di Bortuzzo non fosse quello di trascorrere la notte con lei. Fatto sta che poi, in effetti, ad avere la meglio è stata proprio la ragazza, che come da suo stesso desiderio ha dormito insieme al giovane, inventandosi dei dolori pur di non schiudarsi dal letto, facendo dormire Aldo Montano nel divano, nonostante abbia grossi problemi all'anca. Peccato che l'accaduto non sia per nulla andato a genio al popolo del web. Seguendo attentamente le vicende, infatti, non hanno apprezzato particolarmente il modo in cui la geffina si è quasi imposta con il nuotatore.